colgo l'occasione ragazzi per ricordarvi di iscrivervi al canale aiutarmi a crescere attivare la campanellina e vi ricordo il nuovo contest sul canale ragazzi il contest road to 15k ricordatevi di aprire la descrizione di ogni video in cui troverete il link del contest troverete tutti i miei contatti contatti del team glitch e tutto il resto detto questo vai con la intro ci stanno le tigre online clicca e condividi uomo che non basta mai ma ma maximi che sta a capo di tutto il branco qui non basta il rango alto se a giocare non si scaltro è un bre matalo matalo campero indietro la cru e di iscriverti al canale maximi su youtube se vedi tutto e di più forza fallo pure tu perché con le tigre di roma stare sempre un passo in più ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono maxi e oggi vi voglio parlare di bk ragazzi bk è il rapper che ha inciso la mia intro la intro più bella di youtube italia a mio avviso che ha tirato fuori un nuovo brano ragazzi quindi passate sul suo canale vi lascerò il link del suo canale nel commento in primo piano iscrivetevi al canale attivate la campanellina ragazzi e in questo video ragazzi vi lascerò una breve breve clip video che voglio dedicare ad alcuni stalker del mio canale quindi detto questo ragazzi mi raccomando passate al suo canale un saluto al prossimo video no mercy no